In collaborazione con Glam Vision e Ka Fakli Addio a Mario Savoia, Rovaretto perde un pezzo di storia Comerciante innovatore all'avanguardia, la città perde un pilastro dell'imprenditoria Omicidio di Fausto Job per la difesa di Dallago, l'accusa è monca Come è stato spostato il corpo della vittima? Ma il giudice rigetta l'eccezione L'ANAC blocca la gara da 1,2 milioni di euro per i servizi tecnici dei festival di Economia, Sport e TrentoDoc Manifestazioni a rischio? Prof di Trento tra i firmatari dell'appello di Elon Musk per bloccare l'intelligenza artificiale Non fermiamo però la ricerca ma la commercializzazione Sulle Alpi mai così poca neve negli ultimi 600 anni La scoperta grazie alla pianta del Ginepro Stiamo vivendo qualcosa senza precedenti I difetti visivi sono tanti Miopia, astigmatismo, ipermetropia Il pregio è correggerli con occhiali davvero glam Con Glam Vision puoi prenotare l'analisi gratuita della vista E poi sfoggiare i tuoi nuovi occhiali che possiamo creare per te Scopri di più su GlamVision.it Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti